Salve a tutti, questo è il mio primo video, Bruno Masullo, e incomincio subito con il 3ds, che è la mia console preferita, e voglio aprire le danze con i codici amico. Questo video è proprio dedicato ai codici amico, quindi iscrivetevi al mio canale, scrivete tutti i codici amici, e io vi registrerò.